Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alla velocità di download su Epic Games quindi in questo caso possiamo direttamente sistemare questo errore quindi riguardo alla bassa velocità di download in una buona velocità come potete vedere la differenza tra il 0.00 KB al secondo a 30 MB al secondo ovviamente io che tengo anche la fibra in casa e uso sempre il cavo Ethernet non ho mai problemi di connessione né a scaricare né problemi di lag, frame lag e ping molto alto quindi in questo caso quello che ti consiglio è sempre ma sempre usare un cavo Ethernet ok sempre un cavo Ethernet perché rispetto alla Wi-Fi il ping è alto ok quindi in questo caso andiamo direttamente su tasto Windows più R esegui apri così la schedina esegui vai esegui qua sopra direttamente poi su esegui scrivi direttamente per cento app data per cento fai ok entri nella sua cartella vai su app data local scende fino a giù finì a trovare la cartella di Epic Games Launcher eccola qua vai su save config windows se c'è un documento di testo di nome engine.in, clicchi sopra e incolli direttamente il comando che ti ho inserito in descrizione eccolo qua e fai salva e salve così questo documento una volta fatto chiudi un attimo qua vai direttamente sulle impostazioni ovviamente come ho detto all'inizio per questo ti ho detto che è meglio il cavo Ethernet perché poi andremo a inserire così i migliori serve DNS per la tua connessione grazie anche al DNS benchmark in descrizione ti ho lasciato pure un link che ti porterà a scaricare così il DNS benchmark così facendo farà un test sui migliori DNS e noi adesso andremo a testarli direttamente quindi se in questo caso vai su cmd prompt dei comandi quindi vai cmd esegui come amministratore il prompt dei comandi e facciamo così un test della connessione per esempio il ping 8.8.8.8.8 ci dirà quanti millesecondi fa questo server DNS eccolo qua minimo 20.000 secondi, massimo 1.000 secondi, medio 20.000 secondi oppure possiamo provare direttamente il ping 1.1.1.1.1 qui rispetto al TTL 115 54, come puoi vedere il migliore di tutti è l'1 è quello di Google Flush DNS è quello di Google 1.1.1.1.1 minimo 15.000 secondi 16.000 secondi, medio 15.000 secondi quindi dove voglio arrivare? mettere questi ping direttamente sulla tua connessione quindi chiudo qua perché non mi serve più però il benchmark DNS mi dice di mettere uno di questi qua come puoi vedere c'è anche l'1.1.1.1.1 il cloud flernet questo qua quindi vai direttamente su impostazioni vai su rete internet vai su ethernet vai su assegnazione server DNS fai modifica fai manuale ipv4 disattivato disattivato DNS preferito 1.1.1.1 DNS alternativo 1.0.0.1 e fai salvo e lo salvi così sulla tua rete ovviamente se hai altri problemi a scaricare su Epic Games può essere anche per le impostazioni queste qua gestisci velocità download che è messo su questa spunta quindi va sempre a 0,0,0 kilobyte al secondo mentre se io adesso toco questa spunta e provo a scaricare così un gioco quindi proviamo così a scaricare un gioco faccio install chiudo qua ed eccolo qua come puoi vedere scarica oltre i 45 7 megabyte al secondo con il buon server DNS che ho installato così sulla mia rete ovviamente con il cavo LAN vado sempre una meraviglia a scaricare in download per altri problemi ancora andiamo su cmd prompt dei comandi esegui come amministratore fai e si e scrivi ip config spazio flush DNS configurazione ip di windows cache dei risolvi a DNS svuotata e chiudi qua se non dovesse bastare chiudi direttamente epic games di nuovo su esegui lo scrivi direttamente qua esegui percento app data percento fai ok vai su app data local scendi fino a giù per trovare la cartella di epic games launcher puoi direttamente cancellare questa cartella la cancelli la cancelli anche sul roaming se c'è anche qua la cancelli pure qui il tutto e riapri così epic games come amministratore lo apri fai di nuovo l'accesso a epic games ecco così il nostro epic games se non dovesse bastare ancora andiamo direttamente su gestione attività scendi fino a giù fino a trovare epic games eccolo qua andiamo direttamente sui dettagli di epic games eccolo qua imposta priorità metti alta diamo così la priorità a epic games nel scaricare quindi in questo caso se sotto sotto al pc c'è qualcosa che stai scaricando quello che andrà scaricare per primo usando così tutta la connessione la userà epic games chiudi qua una volta fatto vai su gestione dispositivi la nostra rete scheda di rete questa è la mia rete del cavo ethernet realtech pc questo qua faccio aggiungere una driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili e installo uno di questi driver faccio avanti e lo installo in questo caso potete provare qualsiasi server dns che vi consiglia dns benchmark e installarlo così sulla vostra rete come ho fatto vedere all'inizio per altri problemi riguardo a scaricare su epic games commenta sotto al video per altri problemi ancora scrivimi e cercherò di fare un'altra guida in alto a destra nelle schede ci sono altre guide su come velocizzare così migliorare così le prestazioni della connessione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao